buongiorno cari amici anzi buon pomeriggio questo è il nostro approfondimento della sinagoga del tempo l'abbiamo chiamato così l'ho chiamato così perché è un momento di approfondimento su delle cose che molto spesso a tarda serata diventano quasi difficili da ponderare quindi approfitto di questo momento per raccontarvi un po quello che sta accadendo soprattutto quello che accade anche a voi partiamo con questa puntata parleremo perché non stai esistendo in questo momento partiamo con la sigla prima di iniziare permettetemi di salutare i amici di bologna che poche ore fa ho salutato è stato un momento meraviglioso ho fatto finito il seminario a bologna è stato un momento toccante spero di rivederli presto tutti sono state persone meravigliose grazie grazie mille per questa cosa ci tenevo a ringraziarli continuiamo iniziamo allora intanto vedo che siamo già non mi aspettavo che eravamo così senza pubblicità già siamo una trentina una quarantina di pomeriggio poi buon pomeriggio a voi amici allora questa sarà una diretta di un respiro diverso non è informativa non è divulgativa è un momento di contemplazione il titolo non è a caso perché non stai esistendo perché tutti per adesso abbiamo la sensazione la maggior parte di noi di vivere in un momento di sospensione perché perché è accaduto qualcosa due anni fa lo sappiamo non è stato solamente una circostanza fino a se stessa quella l'aneddoto che abbiamo avuto il cosiddetto lo chiamano lockdown anche se io non sopporto utilizzare parole che non siano italiane però devo ammettere che il lockdown rende l'idea possiamo dire perché in effetti ci hanno chiuso dentro questo ha causato dei grossi problemi non solo a livello eh società a livello sociale a livello monetario a livello economico ha ha dato dei problemi anche interiori dentro di noi e non riusciamo proprio a liberarcene noi non stiamo più esistendo in questo momento l'esistenza che cos'è è per esistere si intende la continua affermazione del proprio sé quando sentiamo parole tipo ego e tu c'hai l'ego queste cose stiamo attenti perché l'ego è importante l'ego è la consapevolezza del nostro essere all'interno di una circostanza ad esempio come la natura quindi il problema è l'egoismo quello non va bene ma l'ego è importante l'esistenza è legata molto alla consapevolezza di sapere quello che noi siamo e dove viviamo il il sé quello che teniamo dentro e cerchiamo di portare avanti ultimamente questa condizione sta diventando permanente cioè noi immaginavamo che era un periodo poi eh passato questo periodo perché secondo me è stata una prova è stato un tentativo di cercare di capire in futuro come poter spegnere e accendere una persona con la sua funzionalità perché l'obiettivo futuro sarà quello di rendere sempre di più l'essere umano funzionale dare un credito e a seconda della sua il giudizio che verrà dato attraverso degli algoritmi eh ci aspetta un futuro dove eh veremmo giudicati e a seconda di come ci comportiamo non ci comportiamo o quanto consumiamo non consumiamo noi veremmo chiusi e aperti a seconda della funzionalità che ognuno di noi può dare alla società e al contributo questo è quello che penso io non è complottismo piano piano ci stanno portando a quello delle tecnologie cinesi non fanno altro che giudicare tutto il nostro operato eh mettere i like a una persona a una persona per il proprio operato io credo che tutto sia partito anche sul fatto di dare valore a alle attività degli altri quello è stato il momento in cui non si giudicava più la persona su quello che era ma soprattutto su quello che faceva e come lo faceva ci siamo cascati tutti tutti abbiamo usato TripAdvisor no se vi ricordate dieci anni fa è iniziata questa moda di riuscire sempre a valutare prima e dopo quando noi dobbiamo andare in un albergo o un ristorante cioè ormai mh la mancanza di esistenza si esprime soprattutto sul prevedere prevenire per una questione di insicurezza capire com'è quella cosa per evitare di essere fregati qui il mondo è cambiato perché adesso noi andiamo più in un ristorante non andiamo più in un hotel se non ci guardiamo tu quante stellette ha preso quell'hotel e soprattutto se la tavolozza è pulita se sporca se c'è la presa se c'è wifi noi non prendiamo più non viviamo questa è la mancanza di esistenza l'esistenza è vivere con la propria persona qualsiasi evento bello o brutto adesso invece noi abbiamo una specie di depressione una specie di essere prevenuti su tutto i social ci hanno insegnato che noi dobbiamo giudicare a priori qualcosa le stellette ad esempio no che vengono date noi non viviamo più in passato era più semplice noi andavamo in un hotel metti che andavamo in emilia a cesenatico al piccolo alberghetto miramare cosa accadeva accadeva che noi diventavo oggetto di diciamo parte integrante della vacanza quando magari mancava il vetro dalla finestra oppure cadeva qualcosa diventava qualcosa che dovevamo raccontare perché faceva parte della nostra esperienza no oggi non è più così oggi se manca quella cosa l'esperienza dell'altro che mi fa vedere attraverso la foto che manca quella cosa in quell' hotel io non ci vado ma soprattutto tramite quell'esperienza che è diventata giudizio non più esperienza esperienza che non entra più viene giudicata mentalmente diventa un meme per tutti e tutti non si godono più magari a me avrebbe fatto ridere come possetto mettere nella finestra mettere la mano e chiudere la persiana senza vetro mi avrebbe fatto ridere mi avrebbe riempito la vacanza una cosa del genere perché come sono fatto io quando sono in vacanza e succedono questi aneddoti per me la vita e invece ora è diventato qualcosa di alert allarme tu non puoi più vivere non puoi più fare quella cosa rendetevi conto perché un altro ti ha avvisato che non manca il vetro nella finestra però siamo i primi che poi quando succede una disgrazia mentre una nave che si capovolge e crea una tragedia siamo i primi a farci i selfie sulla disgrazia e quindi non viviamo più non esistiamo più questa cosa purtroppo è virale e non ce ne accorgiamo più ma soprattutto c'è anche un altro discorso ciao a tutti poi vi saluto alla fine c'è un altro discorso ancora ben peggiore perché questo è un passaggio ormai è avvenuto noi siamo la società della condivisione no noi linchiamo tutto la cosa che mi dà più fastidio nel mio nella mia chat di ricerca di telegram è quando qualcuno me si mette in bocca parole di un altri senza pensarlo c'è questa moda che semplici maniera semplificatoria ma realtà non ti permette più di pensare con la tua mente che tu prendi una cosa di un altro la condividi ma se lo fai con un fine costruttivo se tu dice a un amico guardati questa diretta perché ti può interessare può avere un senso anzi forse pure può avere anche come posso dire uno scopo anche pedagogico ma quando tu fai un gruppo di ricerca e io voglio sapere tu come la pensi ma non tu meme tu dovanni saverio e cercare di dire qualcosa inerente per far crescere la ricerca e tu mi linki le parole di un altro tu in quel momento non stai facendo ricerca ma soprattutto non stai pensando più non sei più capace di avere un'analisi e questo è grave e lo facciamo tutti quindi non valutiamo più le circostanze della condivisione noi automaticamente sentiamo che qualcuno parla di acqua informata tac il link e parliamo di acqua informata di quello che ne parla no allora a questo punto non è più cultura e prendere il sapere e spostare un altro tu sei un vettore un veicolo che porta il sapere da una parte all'altra quindi tu stesso sei manipolato e non te ne accorgi la manipolazione è questa non è il sentirsi più scaltro più furbo se voi entrate in un manicomio non troverete un pazzo se voi domandate a un pazzo tu sei pazzo quello dice pazzo sei tu nessuno si sente manipolato tutti noi che siamo qua seduti ognuno di noi si sente una persona originale con sveglia furba e questa è la prima cosa che fa il potere per governarti perché ti illude con le tue capacità e le tue deduzioni di arrivare a quello dove lui per sconfiggere per arginarlo non è così in realtà sei parte integrante del sistema e non te ne accorgi vi faccio anche un altro esempio molto grave e lo facciamo tutti perché nessuno va più a a verificare fatevi una domanda domandatevi questo adesso perché io quando sento qualcosa su youtube non vado mai a verificare io in realtà i seminari li faccio per dare conferma agli altri di vedere che io ho una faccia sola quando il più bel complimento che io possa ricevere è quando i seminari mi dicono sei come ho visto in video uguale solo che ti ma qua ti manca un pezzo hai solamente il pezzo di sotto uguale non hai pezzi mancanti questo è il più bel complimento che mi si possa fare perché la gente va a verificare giustamente per vedere se quello che dico io sono solamente belle parole sono fatti e quando concludiamo un seminario le persone sono soddisfatte posso garantire che io vado a dormire sogni tranquilli quando me lo permette l'insonnia la cosa più grave è che nessuno domandatevi perché questo è un momento di riflessione perché io quando sento un relatore che dice qualcosa per me ormai è verità e poi la sento la risento in altri canali la risento la risento la risento diventa un mantra come mai perché nessuno perché in passato appena si sentiva qualcosa si andava a verificare sai ho visto che in una sinagoga c'è un simbolo strano aspetta fammelo andare a vedere no adesso voglio che l'altro vada a vedere lui vada a verificare e poi mi dice lui la sua versione diventa la verità per me come mai sapete perché perché non esistiamo più perché stiamo incollati dalla mattina alla sera dalle 8 fino alle 16 fino alle 17 o dalle 17 fino alle 2 di notte a vedere dirette 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 e se tu stai 8 9 ore a guardare dirette su streaming ti rimangono due ore di luce due ore di vita per poi fare tutti i fabbisogni che nella vita quotidiana tu abbia e non hai il tempo di andare a verificare quindi ormai la realtà la realtà come la conosciamo noi ormai non ci serve più tutto è accaduto due anni fa fino a due anni fa bene o male c'era un equilibrio la gente si vedeva una diretta due però poi il resto voleva vivere adesso lo stesso streaming questo quadrato che c'è qua continuo a dirti che tutto fa schifo che fuori di qui è orrendo non c'è niente in realtà sta piovendo sta nevicando giornata brutta invece c'è il sole ma tu ti convinci che giornata brutta e allora stai dentro perché lo fanno perché ti devono vendere ti devono vogliono che tu diventa la loro il loro oggetto per vendere i prodotti per vendere le cose per vendere le informazioni se tu stai 8 ore ti intossichi vi ricordate l'ermete malato la diretta dell'ermete malato molto allarmista attenzione era vero esiste l'ermete malato tu non dai tempo alla tua persona di prendere quelle quei saperi quelle nozioni legittime e farle diventare cultura perché l'indomani c'è un'altra diretta ancora che dice una cosa totalmente diversa di quello che hai sentito prima lunedì ho sentito che i ufo sono santi mercoledì dico che i ufo sono gli alieni sono vampiri che ti rubano l'anima secondo voi la vostra mente la vostra interiorità ha tempo di metabolizzare perché non hai avuto il tempo di andare a verificare se è vero no quindi se io lunedì ho sentito una cosa e per questo io non vado in molti canali dove ci sono mappazzoni dove si fanno i collezionabili no come le figurine ce l'ho mi manca ce l'ho manca io non faccio questo valuto la persona e valuto se sono canali che hanno un certo respiro perché la persona deve valutare invece no siamo tutti lì a sentire il guru che parla lo faccio anch'io alle volte e però quando mi accorgo che sta diventando qualcosa di tossico di bulimico io mi allontano a parte che non ho il tempo di verificare tutto perché ne faccio anch'io dirette quindi come faccio a vedere quelle degli altri però un giudizio critico deve essere vero bisogna avere una linea guida che sia giusta che sia sbagliata che sia diversa ma bisogna mantenere quello tu non puoi fare in una settimana tre persone perché le persone non hanno il tempo di metabolizzare non dai il tempo a te stesso di verificare perché tu sei pieno talmente pieno di streaming che ti rimangono un'ora due ore di vita ecco perché nessuno va a verificare e tutto diventa verità quando si dice sono stato in quella associazione e quando sono uscito pensate un po mi volevano ammazzare nessuno che va a verificare e quindi quello diventa verità nessuno che si alza e dice scusami o nessuno che interviene anche le cosiddette interviste che vengono fatte estremi non sono mai interviste perché l'intervistatore non mette mai nella condizione di ragionevolezza l'intervistato è un continuare la che ci siamo sempre lamentati che la televisione era corrotta e ogni volta con i loro beniamini non faceva mai le domande scomode lo streaming fa lo stesso io non ho mai visto una diretta nella mia vita dove si fanno domande scomode all'intervistato ma scomode cioè dice una cosa si alza e si dice ma scusami ma chi tu mi stai dicendo che sei uscito da quella realtà e ti volevano ammazzare da quel momento quella realtà diventa diventa oggetto di nemicizia odio senza aver verificato nulla perché accade questo siamo stupidi no e che siamo manipolati è diverso come è possibile credere una cosa del genere riflettete è pieno ci sono dirette intere faccio esempio del kun sono dirette intere dove si dice che esci fuori dal centro ufologico e ti tagliano il volante io sono scioccato come si fa a credere una cosa del genere perché la persona ha molta credibilità ma non c'è nessuno che magari bussa il campanello al centro ufologico e dice ma se io entro mi tagliate il volante anche a me cioè io mi immagino gente sotto la macchina che taglia il volante mi sto immaginando i miei amici del kun alcuni un po' un po' che hanno 70 80 anni vedo là che si mettono di nascosto a tagliare i volanti alle persone ma come si fa a a credere una cosa del genere perché non si va a verificare nessuno che ho fatto l'esempio del kuno ma ce ne sono tante realtà no perché perché ormai è diventata verità se io 30 anni fa sono stato a un ristorante dove ho litigato col cameriere e quel cameriere non c'è più io continuo a ripetere all'infinito che in quel ristorante i camerieri sono maleducati magari quel cameriere è stato licenziato proprio apposta per quella cosa quindi è un ristorante di tutto rispetto ma io inquino le opinioni degli altri in maniera costante a ripetere sempre la stessa cosa fino a quando poi io quando vado a quel ristorante guardo tutti i camerieri male dicendogli maleducati che non siete altro magari quelli non sono più quelli dell'epoca e questo è una manipolazione e questo è quello che sta accadendo costantemente tu non stai più esistendo perché l'esistenza implica che la tua persona si faccia un giudizio una regola giudizio a priori o a posteriori sintetici come diceva kant non ci sono più i giudizi di kant non esistono quel poco di filosofia che ci serviva per avere un rapporto con la natura non c'è più con l'esterno e questa purtroppo dove ci sta portando un'altra cosa che volevo dirvi è successa un'ultima cosa sempre sempre conseguenziale a quello che ho detto prima alla mancanza di esistenza perché stiamo molto spesso a guardare a dare troppe informazioni che non diventano cultura non diamo tempo ai noi stessi non verifichiamo questo è un passaggio voluto e te ne accorgi su che cosa su un campanello d'allarme è successa una cosa circa neanche un mesetto fa un boom di riguardante un fenomeno strano così una credo che sia un tassello evolutivo o involutivo riguardante il fenomeno degli streaming cosa è accaduto il gossip prima era nei rotocalchi la musica veniva liberata dai gossip c'era abituati a sentire la musica di una cantante poi scoprire nei rotocalchi nei gossip che non si leggono più perché fanno parte della realtà oggettiva seguire che quel cantante aveva avuto un tradimento no è stata sempre così la vita l'arte fino a se stessa canta l'amore felice tutto il resto la stessa cantante nei rotocalchi nei gossip non magari aveva avuto una delusione perché però siccome manca un po' manca l'esistenza dove dobbiamo mettere il gossip lo mettiamo dentro la musica guardate che non è un caso là il fenomeno commerciale di shakira l'ultima canzone che ha fatto dove parla della sua vita all'interno cioè noi stiamo assistendo a un gossip musicale è un primo fenomeno è accaduto in sordina non se ne è accorto nessuno ma che cosa cambia da quella canzone fino alle altre tutte le cantante hollywoodiane stanno raccontando quello che prima era argomento di vergogna cioè il tradimento addirittura la musica non riusciva a creare economia cioè non veniva vista se c'era questa dissonanza tra la vita pubblica della persona della cantante e la canzone cioè se la canzone parlava di un amore stupendo fantastico ma la vita della della cantante risultava al contrario risultava opposta con un tradimento una vita fallimentare a quel punto dedicava il fenomeno commerciale invece adesso il gossip cioè noi sappiamo tutto di shakira dentro la sua stessa canzone perché perché siccome la gente non vive più non c'ha più l'esistenza originaria quella oggettiva sapendo che è sempre più forte la realtà virtuale che stiamo vivendo adesso tutti i gossip vengono messi lì e ovviamente i nostri amici italiani non si possono perdere questa cosa e hanno iniziato a sanremo i nostri amici ferragnez no che si sono fatti due camere separate si facevano da una camera all'altra i video e si parlavano tramite quello quello è il gossip in diretta perché siccome i rotocalchi non li guarda più nessuno le testate giornalistiche di gossip non le leggono più perché ormai tutti sono trasferiti in questo streaming si vive all'interno di questo quadrato perché nessuno va più a verificare nella realtà e allora il gossip direttamente viene messo qui è la prima volta che io sento in questo periodo che le cantanti non si vergognano di dire le loro cose soldi in cassa banche suocere ma che cosa è accaduto proviamo a sentire questa canzone immaginiamo di sentire questa canzone tre quattro anni fa prima di quella situazione che è successa due anni fa nel 2020 tre anni fa non sarebbe mai accaduto una cosa del genere cioè shakira avrebbe totalmente pagato i sottocalchi per evitare di far uscire la storia con piquet adesso invece ne ha fatto commercio shakira shakira no waka waka il mondo è bello waka waka è tempo dell'africa no adesso lei racconta di essere tradita da una di vent'anni lei è la ferrari lei è la migliore cioè delle reazioni ovviamente da una persona solamente frustrata perché ovviamente il tradimento è una frustrazione la vive così lei la trasforma e lo fa diventare gossip e non si vergogna più perché perché da quella parte non esiste più c'è ogni cosa il dolore per esistere deve essere mercificato all'interno dello streaming ok detto questo andiamo a vedere un attimo una cosa mi avete segnalato quello che è successo per la ferragni no e il gioiello che ha messo saremo ecco ora cercherò di farvelo vedere molti di voi è stato scalpore questo gioiello ma in effetti abbiamo già parlato della lingua nella fuoriuscita della lingua che cosa succede cosa cos'è nel mondo pubblicitario e soprattutto nel mondo nel mondo dei gossip nel mondo dell'arte no che ogni volta si guarda la telecamera con la lingua fuoriuscita è aditato come qualcosa una iettatura che non è obbligatoriamente satanico attenzione non è quello è usato dal mondo occulto dal mondo dell'oscurità per cercare di iettare può essere anche una difesa infatti alcune divinità venivano manifestate con la lingua di fuori con gli occhi spalancati e questo è un segnale di possiamo dire di respingere ok molti che hanno visto le mie dirette ci vedono anche un aspetto luciferino dice al molti ci hanno visto un utero però io ci vedo anche una donna come vedete messa in una posizione cristica come nel crocifisso vedete le gambe sono messe una sopra l'altra come si mettono nel crocifisso non vorrei così facciamo facciamo un angolo delle illazioni no non vorrei che dato che ultimamente abbiamo visto che rosa chimica casualmente si bacia in una cosa omosessuale casualmente no e abbiamo visto abbiamo già analizzato il fenomeno delle rose quanto sono state bistrattate e ora vediamo prima del finire di questa manifestazione vediamo una donna che manifesta un un aspetto luciferino con una donna che richiama moltissimo la faccia del bafometto del capro perché per molti riti per molte ritualità anche l'aspetto il volto del capro rappresenta qualcosa riguardante l'uterino uterino in senso di coppa ma voltata al contrario non coppa che deve ricevere qualcosa di spirituale ma coppa che deve partorire qualcosa di materico quindi pare strano che come ultima cosa si sceglie un gioiello così provocatorio una persona però che di figli ne ha ma questo è stato anche Sanremo del decidere di non attenzione a quello che vi dico di farvi decidere di non fare più figli ultimamente il gender la politica gender si sta spingendo sempre di più a far dire alle proprie beniamine che è meglio non fare più figli io in questo mondo così orrendo non voglio mettere figli io non capisco cosa c'è di orrendo da una persona che ha avuto successo è diventata una delle migliori campionesse del mondo che sostiene che questo mondo è orrendo che in italia la trattano tutti male io l'ho sempre vista trattata per quello che merita perché una grande campionessa e l'ultima cosa che sta iniziando a dire è che non vuole fare più figli in modo naturale ora casualmente poi mi punta questo aspetto uterino anche nello stessa manifestazione e dato che siamo la sinagoga del tempo mi permetto sempre di fare riferimento alla parte dei vangeli cosa ci dicono i vangeli i vangeli dicono attenzione che questa è una si è la ottava stazione e qua gesù profetizza qualcosa alla fine dei nostri tempi cioè quello che viene detto da gesù è qualcosa che riguarda i nostri tempi che sono la fine di un'epoca lo seguiva una gran folla di popolo le donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui ma gesù voltandosi verso le donne disse figlie di gerusalemme non piangete su di me ma piangete su di voi stesse e su vostri figli ecco verranno giorni nei quali si dirà beate le sterili e i tempi che non hanno generato le mammelle che non hanno allattato perché se trattano così il legno verde che avverrà del legno secco avete capito qui gesù profetizza e dice alle donne che alla fine dei tempi alla fine quando sta finendo un'epoca come l'epoca transitoria che abbiamo adesso perché noi siamo in un'epoca molto materica e si sta avvicinando sempre di più l'inizio di una nuova era in questa fase ci abbiamo una una pesantezza materica non indifferente in questa parte del vangelo si descrive quello che sta accadendo adesso il fatto di come vedete vedete quello le parole che sono state le mammelle e soprattutto le donne che non generano verranno osannate le donne che non generano ma se trattano così il legno verde c'è quello fresco cosa faranno col secco infatti sappiamo che lo vogliono ammazzare lo vogliono buttare perché non serve più ormai quelli i saggi gli anziani che tanto portavano avanti la storia perché chi non conosce la storia è condannato a ripeterla e gli anziani il giorno della memoria ad esempio serve a far capire a noi quanto è importante non cadere di nuovo negli stessi errori ok e invece se noi perché stiamo buttando ci sono dei politici che hanno detto che dobbiamo eliminare anche i nostri anziani perché gravano sulla sanità pubblica perché perché in futuro non ci sarà più bisogno di noi io quando avrò una certa età non sarò rispettato e amato come mia nonna io non servirò più sarò obsoleto tutto quello che dirò sarà frutto di un'esperienza come mai perché ormai c'è questo avendo il cellulare che è un database di ricerca universale io non ho più bisogno dell'anziano il mio database ce l'ho fateci caso ogni volta che io parlo qualcuno parla tutti vanno qualcuno che dice una cosa magari unica che non si è mai sentita tutti vanno a verificare se c'è se non c'è su internet tu sei un bugiardo non è internet che non è informata magari su quella cosa perché purtroppo non lo può sapere tutto no sono io che dico bugie quindi questa questo qui è più veritiero più attendibile di una persona che ti parla qui davanti siamo lo facciamo tutti no ecco quindi vedete ci sono tanti abitudini che sono state create volute per noi non avere un capacità di critica ma critica interiore non critica costruttiva non la critica distruttiva stupida che molto spesso si sentono nei commenti la critica costruttiva non c'è più quindi come vedete però che cosa succede si creeranno sempre più delle società di ragazzi che prenderanno solamente input e dati cioè prenderanno una chiavetta se ci saranno ancora usb la metteranno al posto giusto dietro nell'unico nell'unica fessura che riusciranno a trovare prenderanno i tuoi dati ok prenderanno i tuoi dati e ti butteranno perché questo fanno si stanno abituando le nuove generazioni a non prendere il sapere dall'altro ma la nozione il dato ok quindi saranno persone perché noi invece abbiamo mantenuto una certa sensibilità perché quando mio nonno mi raccontava della guerra mia nonna mi raccontava della guerra piangeva e quindi a me oltre all'input passava il binario anche dell'emozione l'emotività perché quello importante l'informazione vera non sono le parole storiche l'informazione l'emozione tutti amiamo il discorso dell'acqua informata no quando abbiamo visto gli esperimenti che se mettiamo un vaso con dell'acqua e delle parole gli diciamo delle parole la pianta la pianta cresce se diciamo parolacce la pianta muore allora l'acqua informata non è che la pianta capisce il nostro linguaggio capisce l'italiano o capisce l'inglese non è così l'acqua viene informata dalla nostra emotività dalla nostra emozione la parola è un binario che serve a portare l'emozione se io gli input li prendo solo da un cellulare scritti eh che me li dice una una voce elettronica che non ha emozioni io riceverò solamente dati sarò solamente una specie di da un server che camminerà per strada e prenderò solamente degli input è così invece noi che abbiamo avuto l'emozione di provare di avere i saggi di avere i nostri nonni noi ci facevamo raccontare la storia e per questo odiavo la guerra odiavo la guerra perché mi ricordava le lacrime di mia nonna non le parole e purtroppo questa cosa si andrà a perdere sempre di più se noi eh casualmente in australia che scemi non sono sono ritornate alla scrittura hanno eliminato i tablet hanno eliminato le lavagne elettroniche hanno messo i cellulari fuori dalle scuole sono ritornati di nuovo alla penna e alla carta e allenare le persone alla scrittura perché chi scrive allena il cervello chi invece prende solamente qualcosa di informatico e cos'è il digitale prende degli input e se li porta qua la penna è emozionale ti tocca le corde eh come diceva un cantante si tinge eh la penna nel nell'inchiostro del cuore e si scrive ok la penna è qualcosa di di esoterico mh il rapporto col calamo ai tempi c'era il calamo non c'era il calamaio la prima cosa fu il calamo che era un pennino dove si facevano ehm gli scriva gli emanuenzi facevano praticamente tutte le varie vignette cosiddette eh le vignette nascono da questo da fare la prima la prima parola in un certo modo a maniera con una forma artistica incredibile in miniatura e quindi prima c'era il calamo poi c'è stato il calamaio ok quindi è una storia incredibile sulla sul sul corsivo sulla sulla scrittura e allora quindi quello che posso dirvi è che perché non esistiamo più iniziate ad esistere mi raccomando siate coerenti mh e e andiamo avanti io intanto vi dico sempre vi ricordo che a Milano c'è eh la possibilità di vederci il diciotto e il diciannove febbraio parlare della simbologia dei tarocchi che è la cosa più importante prima di arrivare alla divinazione bisogna studiare e capire dove sono gli archetipi che ci servono quindi è difficile fare una divinazione senza conoscere i simboli per arrivare alla nostra parte archetipica come sempre 377 08 65 571 anche con whatsapp se siete interessati ci possiamo incontrare a Milano per questo evento tutte le informazioni verranno date anche tramite mail e poi io vi invito sempre al 4 5 marzo a Bergamo parre che farò il mio seminario sugli archetipi e vengo fresco fresco sempre 4 marzo 377 06 65 571 è lo stesso numero parlo con cognizione di causa perché sono circa 10 15 volte che faccio questo seminario e devo ammettere che sempre di più si fa e sempre mi piace quindi veniteci eh vale la pena posso garantire eh perché è detto dagli altri e spero di vedervi presto ci vediamo alla prossima ci vediamo mercoledì ok ci vediamo mercoledì perché eh forse faremo una diretta importantissima per quello che sta accadendo nei cieli ok ci saranno i degli esperti che daranno la propria opinione adesso io vediamo se c'è qualche domanda ho finito la trasmissione eh allora eh sì non è una caduta di stile attenzione è una trovata commerciale la vedi caduta di stile cara Sara perché tu vivi per la gente che non vive più quello è una panacea che bello finalmente so Shakira come vive è una trovata commerciale molto furba perché sanno che ormai viviamo più di qui che nella vita reale sì Patrizia eh è vero aveva anche un abito una colomba dorata come Lady Gaga sì la famosa colomba che abbiamo visto anche eh con Lady Gaga l'abbiamo analizzata ricorda la prima del nuovi simboli del potere c'era questa colomba la stessa cosa ha messo lei perché è un richiamo sempre all'America allora aspetti positivi del transumanesimo ce ne sono certo che ce n'è è normale non c'è mai un estremo di negatività e un estremo di positività l'equilibrio bisogna sempre muoversi con un certo equilibrio vi faccio un esempio la corteccia celebrale è rivestita da una specie di liquido un liquido potentissimo che non fa entrare nessun batterio nessun virus all'interno del cervello cioè questo rivestimento questo liquido che permette al nostro cranio di non essere attraversato da niente è potentissimo pensate che quando ci sono dei problemi al cervello come tumori provano a iniettare la sostanza ma non riescono ad arrivare al cervello perché questo liquido questo rivestimento gelatinoso impedisce totalmente a qualsiasi medicinale di entrare all'interno ed è una gravità perché quando il cervello ha dei problemi mettete bisogna intervenire per forza in maniera chirurgica aprire la calotta cerebrale perché a livello interno non si riesce a ad avere rapporto cioè il cervello ha solamente rapporti attraverso gli organi di senso e attraverso i vasi sanguigni che stanno all'interno e il midollo il resto se io provo a entrare da qui è impossibile che io possa mettere qualcosa che possa dare beneficio al mio cervello cosa è successo adesso hanno inventato delle nanomacchine dove possono più piccole piccolissime dove riescono a entrare all'interno del cervello mettere il medicinale che serve proprio in quella zona e far guarire quella parte lì da questo punto di vista lo trovo una cosa una cosa rivoluzionaria però parte opposta queste nanoparticelle le useranno solamente a scopo diciamo salvifico oppure il governo il complottista che c'è in me un giorno queste nanoparticelle basta fare così con un computer e dire che giorgio di salvo deve cessare la sua esistenza e se ne hanno particelle casualmente mi mettono qualcosa nel cuore io in due minuti non ci sono più qualcosa tipo cianuro rivestire qualcosa che ne sappiamo e vedete quindi l'esoterismo è l'unica disciplina che ci permette di mantenere sempre un equilibrio su quello che è negativo e quello che è positivo non c'è un estremo non ci sarà mai tutto male tutto bene perché il momento in cui c'è tutto male tutto bene l'esistenza non ha più senso fabrizia ciao è verissimo i miei nipoti cerco di insegnare lo spirito critico ma non è assolutamente facile la scuola qui non aiuta più ecco perché la scuola è sempre funzionale purtroppo si adegua alle cose bisogna fare discernimento sì sì jessica ecco ecco qua anche anche il grafene riesce a superare la barriera e grazie per avermelo ricordato emato 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 non cefalica sì non me la ricordavo emato cefalica sono un po stanco perché vengo da bologna e veicolari farmaci e il discorso del grafene anche nel pane c'è il grafene che facciamo non mangiamo più pane l'acqua che noi beviamo anche qui è cancerogena lo sapete non c'è la purezza assoluta la purezza assoluta c'è gli olivudiani ad esempio quando ho fatto ho lavorato in un film dove c'era jennifer addiston e si era lei quella di amico e si chiama quella di friend no si chiama jennifer addiston e feci questo film modern mystery io mi occupai della parte tecnica io vedevo che lei non beveva acqua normale quando gli versa gli davano dell'acqua lei no 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 si faceva portare l'acqua pura pura proprio cristallina dagli acciai era una marca una nota marca costava tipo 100 dollari a cassetta e si faceva portare quest'acqua che veniva dagli acciai perché diceva che non aveva subito inquinamento beh io credo che tutte le acque che vanno in lavorazione poi alla fine vengono contaminate dall'ambiente no cioè ne che rimangono micro filtrate pure in provetta non beveva provetta bottiglie di plastica però lei si era fissata che tutto deve essere puro perché ormai tutto è inquinato dicono che ormai nel nostro cibo ci sono addirittura tutti dei micro particelle di plastica che noi dentro nel corpo abbiamo plastica perché siamo tutti ormai ma il grafene c'è ovunque anche nel bauletto che noi mangiamo il no bianco nel pane oppure c'è il grafene non è che mi dispiace ma quando fanno un quando fanno dei medicinali non mettono mai acqua distillata cioè non mettono mai acqua disorgente se devono fare due milioni di ettolitri per fare per fare i prodotti farmaceutici ma chi è quello che prende acqua disorgente nessuno sono tutte acque acque create così depurate ma è normale anche nella bottiglia di sciroppo ne che io quando bevo una bottiglia di sciroppo possa immaginare che l'acqua che hanno utilizzato per creare quel medicinale quella medicina sia acqua disorgente e quell'acqua se voi andate al microscopio trovate quello che trovate che facciamo allora non mi non mi bevo ma dappertutto è così parlate con un biologo un biologo vi dirà che il grafene sta ovunque solo che in alcune circostanze abbiamo verificato che ce n'era maggiormente e quello grave il grave che ce n'era un po troppo perché non mi posso prendere un bicchiere d'acqua e trovare una consistenza di grafene che è praticamente quanto una botte e quello il grave ma noi continuiamo sempre a mangiare situazioni elementi nocivi per il nostro organismo alcuni vengono espellati dal nostro organismo altri non lo so l'intelligenza artificiale ha una coscienza e bisogna sempre valutare che cos'è la coscienza nessuno sa che cos'è la coscienza si studia si dice che è remota al corpo io sono più vicino alla alla coscienza aurorale di bascerà e che è quella archetipale la coscienza dell'archetipo esiste una coscienza mentale ed esiste una coscienza degli archetipi la coscienza degli archetipi sa tutto di te mentre tu di lei non sai niente e allora inizia questa specie di io quando faccio gli esercizi sugli archetipi e iniziamo a parlare in forma archetipale la persona che ragiona mentalmente si sente tagliata fuori da se stessa ed è una situazione sconvolgente però la coscienza a mio avviso non è altro che una consapevolezza che serve a tutto io sono dell'idea che la coscienza l'essere umano tutti gli animali hanno una coscienza ma l'essere umano ha una consapevolezza diversa per questo vive male gli animali vivono bene perché sono nella natura l'uomo vive male perché ha presso questa coscienza e l'ha portata in un aspetto tecnico perché noi non siamo naturali noi non viviamo nella natura noi siamo tecnici le aiuole le facciamo in funzione della nostra nostro senso di umanità non è l'umanità universale della natura gli animali sono più umani di noi ci sono animali che dipingono elefanti ci sono gorilla che con linguaggio dei segni ci hanno detto che noi stiamo sbagliando tutto quella è l'umanità il concetto di umanità che prescinde da quello della coscienza è universale se noi non impariamo che cos'è l'umanità perché ci interessa troppo questa parola coscienza perché la sentiamo in streaming tutti parlano di coscienza 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 ma se non capiamo cos'è l'umanità l'umanità è la consapevolezza l'empatia di provare quello che prova l'altro essere questo è il concetto di umano api che vengono salvate da gatti mentre sono nell'acqua che stanno affogando perché lo fa il gatto perché capisce l'umanità capisce che sta soffrendo quello significa umanità quello che rende l'uomo unico e quando lui rende si rende pienamente consapevole dell'umanità universale sapere che quello che prova lui lo provano gli altri per questo in futuro saremo obbligati tutti a diventare vegetariani tutti perché è uno stato di coscienza superiore a me dispiace sono di cultura sono cresciuto in un paese che si chiama città della carne mi hanno allattato con la carne mi dispiace ma è vero mi dispiace per tutti i prodotti tipici della nostra cultura di cui io ne sono un amante ma è inevitabile che in futuro se vuoi fare un percorso superiore tu devi devi allontanare il fatto che tu stai mangiando la morte degli animali perché poi non ci possiamo non ci dobbiamo lamentare se ci mangeranno a noi cosa cambia cosa cambia se io a quel punto mi mangio un umano un animale cambia niente quindi è inevitabile ragazzi volete migliorare dobbiamo la via è trovare una soluzione a questa cosa si deve trovare ve lo dico io in futuro se non riuscirò ma ci devo riuscire a togliere la carne definitivamente alla mia vita accetterei anche di mangiare le bistecche di melanzana che le ho mangiate sono buonissime le polpette di melanzana gli hamburger di melanzana li fanno già perché le nuove generazioni molti ragazzi non mangiano più carne mangiano sostanze alternative e lo farò quindi è quello la strada è quella io mi sono sempre domandato una cosa andiamo avanti con le domande vediamo se ce n'è perché ecco marco ciao marco io sono convinto che qualcosa che nella cosiddetta creazione sia andato storto anche gli animali non stanno affatto bene quando vengono sbranati da altri animali vedi quello è purtroppo il discorso della natura dove sta questa dissonanza cognitiva che abbiamo il concetto di natura e non è è sta l'errore è stato la madre natura nel momento in cui noi abbiamo dato un significato abbiamo antropo abbiamo dato una logica umana alla natura da quel momento è diventata nociva la natura è una legge fine a se stessa non ha regole umane non è che è andata storto la natura è perfetta crea i predatori e crea le prede è così crea meno predatori e crea molte più prede se voi andate in mongolia il lupo è venerato e invece le pecore sono detestate non detestate però non sono venerate perché dalle dalle parti della mongolia chi nelle alture chi vive in altura ama e venera il lupo come un animale sacro perché lo libera dagli erbivori perché siccome lì c'è poca erba e gli erbivori devastano tutto quando sono troppi il lupo è un animale sacro perché uccidendo tanti erbivori permette a loro di vivere ora dal loro punto di vista il lupo è un animale sacro perché le circostanze della loro natura rendono quell'animale positivo dalle parti nostre le pecore sono animali che servono una forma vitale al pastore almeno fino a mille anni fa era così quando veniva il lupo il lupo era cattivo vedete come cambia assolutamente il positivo e il negativo a seconda di dove io mi sposta come è possibile allora non è la natura sbagliata la natura è perfetta è l'uomo che si è creato la sua tecnica la tecnologia la tecnologia è una sostituzione di dell'uomo di cercare di fare come dio anziché mettere l'umanesimo l'uomo misura di tutto nella natura l'uomo si è inventato la sua tecnica per diventare lui dio noi siamo solamente un'evoluzione tecnologica noi a livello umano non abbiamo fatto un passo nessuno immaginate di trasferirvi in questo momento accanto a pitagola o ad archimede ma voi vi sentire sta disagio perché troveste le persone così illuminate e invece non c'entra nulla noi scambiamo l'evoluzione futuro con la tecnologia non abbiamo fatto un passo è tecnica basta è un'altra cosa quindi è normale che tutto quello che figlio della tecnica la scienza e tutto il resto deve denigrare tutto il creato di dio perché altrimenti come si sostituisce lo scopo finale della tecnica della scienza non è più cercare di analizzare la natura e farlo in laboratorio e cercare di superare la natura se e far sì che il laboratorio diventi la natura è il contrario oggi come oggi lo scientismo vuole creare una divinità dove la natura deve servire a fare esperimenti per creare quell'ordine superiore non è più come la vecchia scienza galileana dove tu osservavi un fenomeno in cielo della natura e poi lo facevi in laboratorio è cambiato tutto tutti intendi gli esseri umani non capisco forse si riferisce a me non so a quale sì gli animali sono sempre collegati hanno la loro parte archetipale collegata direttamente al divino l'uomo no l'uomo ha la parte archetipale collegata al divino ma la mente è nella materia ecco perché fa difficoltà non parla con se stessa quando sentite o leggete nei libri così in cielo così in terra è anche la mente che deve collegarsi all'archetipo noi lo colleghiamo qua chissà dov'è io lo dico qui per metterlo lontano dalla mente la coscienza non si spiega solo col fatto che siamo consci di esistere questo è il problema il fatto di essere consci di avere una coscienza non spiega cos'è la coscienza sì noi la viviamo la coscienza non ci domandiamo che cos'è non la la mia teoria di che cos'è la coscienza perché la lego ha un principio universale ma non puoi spiegare qualcosa che stai vivendo noi ci limitiamo a viverla allora quando un animale viene mangiato come facevano i nativi americani per assorbire lo spirito per assorbire lo spirito beh i nativi americani era diverso loro erano nella natura non avevano tecnologia ma secondo voi per millenni tutti i vari popoli che vivevano e cercavano di creare la loro architettura insieme alla natura ma perché lo facevano perché sapevano che la tecnologia li avrebbe portati a ad allontanarsi totalmente dalla loro esistenza questo è il rapporto che avevano i nativi americani come quando dovevano abbattere un albero prima battevano sul tronco degli altri alberi perché perché così svegliavano le radici e avvisavano gli altri alberi che quel quell'albero doveva servire a loro quindi si faceva un rituale per cercare di strappare un albero per i fini personali si avvisava la natura oggi invece arriviamo qua tam 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 e tagliamo perché e poi le radici non sono pronte e dobbiamo stradicare tutto è tutto diverso va bene amici io spero di rivedervi presto ci vediamo mercoledì chi questo weekend si trova a milano mi venga a trovare faremo una bella cosa insieme faremo un percorso esoterico con i tarocchi e qualsiasi informazione qualsiasi cosa sapete dove trovarla questa è la seconda puntata della sinagoga del tempo spero che vi sia piaciuto è un momento di riflessione pomeridiano mi piace stare con voi ma senza creare dirette quant'altro mi piace stare in questa condizione e riflettere ragionare su quello che stiamo vivendo occhio perché respirare consumare non significa esistere esistere significa quando tu sei pienamente consapevole attraverso il tuo spirito critico di riuscire a dare un giudizio così sai di esistere sai il tuo centro nel mondo se non fai questo purtroppo non stai esistendo buona serata a tutti grazie per la visione